allora raga dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte le storie i commenti su tutto quello che è successo tra me Giulia che sì come dice lei ci siamo lasciati ci siamo lasciati qualche giorno fa non quando lei ha fatto le storie ci siamo lasciati qualche giorno fa per delle cose che non andavano più bene da un po per dei meccanismi che ormai si erano un po che non funzionavano e vi chiedo solo di rispettare questo momento abbastanza di merda di non spalare fango a gratis come se nulla fosse di non inventare stronzate perché non c'è motivo e soprattutto la cattiveria è una delle cose che non serve proprio a niente soprattutto in questi casi non aiuta quindi se possibile se per favore si può magari dar una mano non solo in questo caso ma in generale meglio per il resto non sono venuto qui a los angeles perché mi diverto a fare 26 ore di aereo in sei giorni anche perché ci sono stato un mese e mezzo poco tempo fa ma perché si è iniziato appunto un lavoro e questo lavoro purtroppo andava finito con la mia presenza questo è quanto vi auguro una buona giornata la mia è di merda e basta con la mia presenza